Allora che te devo leggere? Vabbè, la serie. Vediamo sta cosa, vabbè. Diciamo, non so il cavolo, vabbè. C'è questa che sta tipo massaggiando una roccia, i pesci la guardano, alcuni felici, alcuni spaventati, vabbè. Poi, diciamo, continua a farlo e loro si arrabbiano ancora di più. E tipo, poi, gli lanciano tipo delle cose verdi per calmarla, le diventa felice e poi rovinano la statua. E poi, ma perché apparecchino una tavola così? Sotto il ma... Vabbè, è una favola, quindi, vabbè. Allora, diciamo che preparano così tutto a caso, il pranzo, poi arrivano tipo altre 70 persone, fanno una festa, ah, sì, sì, scusa. Ecco, la statua è diventata umana, sì. Vabbè, quindi domani poi, diciamo, vogliono ballare con lei e si mettono a ballare, perché vogliono, e poi gli regalano, fanno il regalo, giustamente perché al matrimonio se non fai il regalo, che cazzo che mi ha fatto fare? Praticamente, poi, vanno nella caverna a trovare il suo amico un'altra volta, poi, lo sta tradendo? No, è che stanno da soli, è lui imbarazzato, che non mi sa che l'ha tradita. Sì, sì, no, stanno ballando, quindi... e poi però ripenso a lui, e quindi abbandonerà il pesce, sicuro. No, cavolo, no, 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 non l'abbandona affatto. E quindi, fine, finisce male sta storia. Ma perché, ma perché?